Quella di ieri è stata una delle giornate più nere della storia del governo musumeci che doveva esaminare la finanziaria ed è stato battuto quattro volte, tradito alla prova del voto segreto dai franchi tiratori della maggioranza. Bocciate le norme sulla liquidazione dell'ESPI, sulla transazione di due contenziosi per oltre 5 milioni di euro fondi ai comuni e sulla modifica dell'articolo della finanziaria del 2020 prevedendo la cumulabilità dei contributi per consentire il ristoro alle imprese che hanno prodotto dispositivi anti-covid ma le cui istanze erano state respinte dall'IRFIS perché la vecchia norma non prevedeva il cumulo previsto invece dalla ragioneria centrale dello Stato con un'apposita circolare. Molte le norme accantonate tra cui quella che riguarda ASU ed ex PIP, momenti di grande tensione in aula e c'è stato chi appunto ha attaccato il presidente musumeci per una maggioranza che si è sbriciolata e che praticamente ormai non esiste più.